Sono Marisa Gelosi di Promis, partecipiamo a questa fiera da molti anni, è per noi un'imprescindibile, è un punto di incontro importantissimo con tutti i nostri clienti e la nostra rete vendita ed è un appuntamento che sempre ci consente di conoscere clienti nuovi, farci conoscere e ampliare il nostro business.